Certo, sarò felicissimo di aiutarti. Sono il grande Daruk e non ho paura di niente. Se il regno di Rula è in pericolo, non sarò certo io a tirarmi indietro. Grazie mille, Daruk. Non so se c'è di mezzo la calamità, Ganon. E qui i demoni spuntano fuori da ogni parte e la zona non è più sicura. Principessa, anche tu faresti meglio ad aumentare la scorta quando ti allontani dal castello. A dire il vero, mio padre sta scegliendo una guardia personale da assegnarmi. Uno dei candidati pare sia il migliore spadaccino del regno di Rula. Ma stai parlando di... Ma cosa? Eccole, ma si può stare in pace un attimo. Ma ce l'hanno con qualcuno? Vigliati. Principessa, aspettami qui. Che preco di codardi! Ma adesso un mostro può sperare di battere il grande Daruk. Questo è poco ma sicuro. Vieni qui. Ce l'avevano con te, coi brutti mostri. Meno male. Non si è fatto niente. Ma... Che figuraccia. Sai, quando ero ancora solo un sassolino, un cagnaccio rabbioso mi è corso dietro. Ho paura, non ci posso fare niente. Allora anche tu hai un punto debole. Che sorpresa! Senti, principessa. Sì? Spero che la calamità, Ganon, non assomiglia a una specie di cane mostruoso. Sì? 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 Sì?